Siamo qui in Sri Lanka dopo sette giorni di viaggio con il migliore di Sri Lanka, Roshan. Abbiamo fatto un viaggio davvero incredibile, lo amiamo e grazie sicuramente a Roshan che garantisce la migliore esperienza possibile in Sri Lanka. Siamo in attenzione con la cultura, la natura e i paesi molto buoni per visitare.